ciao a tutti sono dobbab e in questi giorni sto chiamando a destra e sinistra i personaggi della mia valle per sentire insieme come sta andando questo periodo di isolamento forzato per farci coraggio per sentire le nostre voci e per stringerci in un abbraccio che ci dia calore e speranza oggi tocca ad andrea sentiamo quello che mi ha detto allo allo ciao andrea ciao come stai bene tu grazie bene sto facendo un giro di telefonate un po qui un po là in lungo e largo per la valle per sentire come viviamo questo tempo e spazzare le nostre voci in modo da far girare un po di positività innanzitutto ti chiedo chi sei cosa fai di cosa ti occupi così chi ti conosce meno lo scopre allora mi chiamo andrà pigaglio vivo a prato lungo frazione divinario e nella vita lavoro all'enel sono impiegato e niente faccio sport abitualmente tranne che in questo periodo ovviamente e voilà e voilà ti manca un po lo sport ma sicuramente sì perché è una bella valvola di sfogo però via il momento che stiamo vivendo ci chiedi di stare a casa e così sto facendo anch'io faccio altro sto facendo tutt'altro cosa fai allora per la gioia di mia moglie sono un po casa anche se il papà lo faccio non dicono non lo faccio a tempo pieno traffico in garage sto facendo lavoretti faccio quei lavori di minuto mantenimento che è una vita che non faccio più e niente mi faccio passare il tempo certo scopri angoli della casa che non sapevi di avere angoli della casa che avevo abbandonato quando l'ho fatta adesso li sto rivedendo tutti e sto facendo qualche modifica e voilà e così cosa pensi di questo periodo di questi giorni settimane diciamo che una cosa che ha spiazzato tutti penso e perché anche parlando con le persone che hanno piani di me una situazione del genere non se la ricordano sicuramente la gente quando passa in giro ti guarda un po strano perché non sanno se sei contagiato oppure no però io penso che ne usciremo sicuramente e da questa esperienza sicuramente ci ci unirà di più una volta che tutta questa situazione qua sarà finita almeno questa è la mia idea sono d'accordo con te secondo te ponendo l'ipotesi che appunto finisca presto prestissimo ok ma cosa stiamo imparando da questo che dire qual è il lato positivo di tutta questa faccenda sicuramente che sono venuti a meno i sono venuti meno i rapporti umani questa cosa qua secondo me la gente ne sta patendo abbastanza anche già soltanto il fatto di incontrarsi che ne so per un aperitivo o per fare le parole qualsiasi cosa la gente ha capito che comunque i rapporti sociali sono importanti spero almeno questo è quello che sto sto pensando io e che comunque in un momento di sofferenza generale dove tutti quanti stiamo comunque patendo la situazione e che tutti quanti comunque dobbiamo sottostare certe regole via secondo me anche a livello di unità di ci riporta un po tutti quanti ricchi e poveri sullo stesso piano anche in paese proprio con le persone sai che quando si radicano le divisioni tra le famiglie cognomi le case le stupidate poi ti accorgi che sono tutte cose in fondo piccole anche perché noi la cosa generalizzata a italia ma si può parlare anche di mondo ormai perché tanto si è stata dichiarata come pandemia però il fatto è che poi di fronte a queste cose qua non c'è tutto il resto delle cose stupide che magari ci capitano passano sicuramente il secondo piano e ti fanno pensare ma quelle lì alla fine erano più delle stupidaggini anche perché se uno guarda la lombardia le morti che ci sono quotidianamente e poi anche appunto mi viene in mente che adesso di là di questa emergenza che è sanitaria e legata alla salute però se ci pensi quante cose su cui noi potremmo fare la differenza e in realtà ce ne siamo sbattuti fino adesso perdonami il termine e invece sono importanti l'ambiente la cura della bellezza che abbiamo intorno noi siamo fortunati perché apri la finestra davanti ai la cistella hai capito meraviglioso invece noi in larga parte del mondo viene tutto considerato sfruttabile insomma dominabile forse io spero ci sveglieremo anche un po più attenti a questo sì però sai cos'è io spero di sì spero che questa cosa qua non cioè che rimanga nel all'interno di ogni persona che ha vissuto questo momento perché non vorrei che poi la storia come tante volte succede la storia insegna ma poi alla fine l'uomo non è bravo a raccogliere l'insegnamento che ha avuto speriamo di no dai dai non vedo l'ora di rivederci facciamo una bella cena di leva in cui molto volentieri ci abbracciamo tutti tantissimo secondo me il giorno che potremo di nuovo stare tutti insieme sarà un secondo 25 aprile faremo una bella festa spero proprio che metteranno quella data nel calendario delle feste sì spero anch'io spero veramente anch'io grazie andrea ti ringrazio moltissimo e ti auguro buona giornata ciao altrettanto a te ciao